Ehi la turma, io sono MazzeTest, ben ritrovati di nuovo qui su Expeditions Roam. Allora, abbiamo da pacificare Cliff Pass, che quale regione è? Questa? No? Oh, però loro sono qua, per cui probabilmente è quest'area qua. Qui chi è che sta? Noi eravamo arrivati fin qua, forse, per scoprire che c'è un'altra città, effettivamente Timone, a Timone, che dovremmo andare a picchiare successivamente. Ma no, qua sono due regioni diverse, una e una due, mi sa, eh? Sì. E qua c'è Eliopolis, forse ce n'è una terza ancora qua su dove, con Alessandria, chissà. Cioè, facciamo, restare con abbastanza acqua. Eeeh... O se parliamo con le altre cose. E' parlare con la legione, abbiamo bisogno di qualcosa, no? Cibo ne abbiamo, schiavi ne abbiamo, medicina ne abbiamo, soldi abbastanza ne abbiamo. Siamo riusciti a fare un pochettino salto, quando abbiamo sbloccato l'altro livello. Perché così, forse l'audio in cuffia è troppo alto, aspetta. Bene. Questo dovrebbe essere meglio. Eeeh, nulla, pacificazione, quindi. Bene. Mio buon... Egizio. Certo, nel mentre sto litigando con internet. Eeeh, ho detto, vabbè, eh, registro, avrei dovuto aggiornare l'OVS, ma non si può. Vediamo cos'è qua. Hanno tanti denari, ma poche medicine. Eh, ma anche noi, medicina ne abbiamo tantissima, vediamo quanto ci chiedono di medicina più che altro. Uno a trenta, quindi deve andare a sessantanove per avere tutto il gruzzo. Sì, dai, ci si può fare, si può fare. Quali mercato è una roba da tenere sempre sott'occhio, perché altrimenti se uno non vende costantemente roba, Ah, cioè, finisci in bancarotta istantemente. No, non dovevo andare là. Porto è abituito. No, non è lui. Era qua, forse. No. Con chi dovevamo parlare, scusate? Ma per la pacificazione stiamo sempre andando a parlare con il tizio su in cima, no? Eh. Scusate, cosa che dice? Ha distruggito gli oggetti? Ma mica siamo andati a parlare con lui, eh? Eh. Si è rotto qualcosa, mi sa. Più che altro, per andare là, le nostre regioni, cosa stanno facendo? Loro sono fermi là. Ma, là, a Frorum. Puoi andare a prendere il cibo? Vai, a Frorum. E, eh... Con questa, abbiamo forze con questa per andare ad attaccare l'altra regione. L'altra regione. Prima abbiamo niente sotto attacco, se non ricordo. Eh... Quattimino qua... Abbiamo delle gente da risistemare, mi sa, prima. Abbiamo dovuto andare prima a fixare quegli ominidi e poi... Questa cosa faccio? Ah, dovevamo andare a Menfi per quella roba là. È vero. È vero. No, però adesso andiamo qua e poi ci pensiamo dopo. Torniamo. Fixiamo le nostre armate e andiamo avanti anche con la... Questo. Dobbiamo fare un po' e un po', perché se no ci restiamo... Come nella prima regione dove siamo rimasti bloccati x tempo. Allora, qua solo uno dei nostri compegni. Ne mettiamo Iulia perché Iulia è super OP. E poi manterrei... Allora, l'altro... Sagittarius. Bravo. Poi abbiamo questo Veles che è di livello super alto, non so perché. E... No, forse perché l'abbiamo appena preso perché l'altro è morto. Un Princeps. Un Triarius. Ci sta. Questo è quello che ha il... Ricordo nemmeno quale dei due è quello che ha il... Azione bonus. Se no mettiamo tutti i due Triarius e mi togliamo questo Princeps. Così almeno siamo sicuri di avere quello che ci interessa. Perché quello del... Quello dell'Inspire mi serve sempre un botto per cui mi piace tenermelo dietro. Lo trovo abbastanza... Comodo. Non l'ho usato sempre ma... In alcuni casi è tornato davvero utile. Poi vabbè, adesso abbiamo la situazione che abbiamo abbassato la difficoltà. Cioè, ho abbassato la difficoltà. Per cui... Ok, dobbiamo prendere le torce e distruggere le robe. Le torce sono là. Perché abbiamo una persona qua sotto? No, uno per forza deve andare da un altro lato. Però quell'altro lato non ha niente da prendere torce. L'unico fallo è qua, mi sa. C'è qualcuno di voi che ha torce? È una torcia. Lui ha una torcia ed è un support. Non è quello da Inspire. mettere i loro due là. Qua lascerei il clu delle forze perché... Che qui il clu in realtà sono due arcierie e due veles per cui andrà due o tre arie perché siamo venuti solo con un Princeps. Va bene, dai. Dovrebbe essere... Perché ha fatto sto grande scattone? Allora farei che farli scendere tutti e due. Poi metterei... Lui... Potrebbe quasi seccare questo. 11-14. Questo gli dà il bleeding. Questo dovrebbe darci la certezza che muoia a meno che non facciamo 11. 12-14. Ci... Cuidiamo. Invece ha fatto critico. Ottimo. E... E poi lo lascerei qua. Mentre invece Julia Calida tu avanza un attimo e farei un interrupt. Visto che c'ha l'arco che ignora gli scudi che fa un critico della miseria e che con l'interrupt può attaccare due persone. Molto meglio. Mentre invece questi due direi che se ne stanno là. Allora questi. Ho a fare avanzare lui. Poi allora lui vediamo un attimo se riesce se fa di fare tutto il movimento. Abbuttiamo il fuoco là. No ma non volevo mandarlo là volevo mandarlo al spero che prenda fuoco anche il coso nel prossimo turno perché sennò siamo un po messi allora lui può fare un no. no questo ho solo uno aia e mi prendono da dietro qua non è buono non è buono per niente col fuoco fatti ha resistito e no non ha resistito un corno sta bruciando mi sa che questi due li abbiamo persi uno è andato due è andati tutta quella gente ma questo è scudato come la miseria questo è un 3 armor shred ah ma la li era parato tutto con lo scudo porca mannaggia quelli là o andiamo a salvarli o sono spacciati per sempre ma per fortuna questi sono sereni no tu arce no arcele tu ma lui riesce a prendere qualcosa di là no unlucky no però andando qua sarebbe già molto meglio allora farei che vai tu là però non gli fa un quanto può avanzare non può avanzare più di così sono un bel giavellotto in faccia ci stava dai un hp scusa perché non può vedere la cassa è qua dai fuoco quello intanto allora intanto la facciamo muorla vediamo un attimo che succede teoricamente questo dovrebbe fare abbastanza malino è dato anche anche il bleeding il bleeding ignora tutto lui scudo non ne ha io io c'ho più che altro paura per l'altro ottimo ottimo Non capisco perché stia scattando l'audio Non so se lo siete detto anche voi Ma mi sta scattando l'audio fortissimo Del gioco Ma io direi che Glancing non buono 12-21 non gli farà mai così tanto danno Infatti non gli ha fatto niente di danno Che cavolo Però è terrorizzato se è un altro Quello sta bruciando Però bruciamo anche questo Già che ci siamo Chi rimane con azioni? Lui Prendi una torcia direi No l'acce dell'altra gente Non voglio Vai qua riesci a Sì Ok mi sa che questi due sono messi un po' Ahia Lui più che altro No l'acce del gioco No l'acce del gioco Oh no l'acce del gioco Oh no l'acce del gioco Quello è messo male, 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 male. Ah, quello è un pezzoncino se non l'altro, per cui... No, l'altro dovevi ucciderlo con Calida, perché sono altrimenti qua. Non gliela fa. What? Tutto sto glancing? Oh, perché qua... Allora, no, lui forse se stai... Ah, c'è quello del 2. Buono, quello è andato. Però deve muoversi per fare questo tipo di attacco, Porsch. Porsch, eeeh, Reckless. Vabbè, deve allontanarsi. Molto buono. Ok, così avanzo con quello e l'altro dovrebbe essere un po' più sereno. Julia, l'aspettazione l'ha fatta. Il nostro Sagittarius... No, il nostro Sagittarius è qua. Ok. 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 Comunque lui è quello con l'Enspire. Questo si chiama Rannius Rebellius. Ah, non ha più spazio per i tactical items. Oh, è andato. Buonissimo. Eeeh... Andiamo a prendere una torcia. E poi farei un Inspire su... Solo su lui posso. Ma serve che facciamo un Inspire su lui? Cioè lui adesso va a cercare il guai ferutissimo, eh. Eh, sì. E' un'altra chance di fuga non ne ha più. Speriamo almeno che non ci creppi. Teoricamente dovremmo riuscire a mandare... Porti in tempo. Ah, lui sta malino malino. Eeeh... Però lui c'ha anche gli attacchi da tre, eh. Eccala, infatti. C'è una torcia. Lui no. Iuglia lui non lo vede. Buono, così possiamo... C'è una torcia qua. Oh, tu torna qua. Stacca lui. Torna qua. Tu sali indietro. Tipo qua. Ma lei non ha più movimento. Però lui allora può. Eeeh... Ovviamente mi è venuto addosso quello con lo scudo. Ricordo, quello con lo scudo non posso fare niente. No, non so. E farei interropte, secondo me non serve a niente, ma... Tante... No, l'inspera non serve a niente. Vabbè dai, ci inspiro così... Lui è... Lui è messo malino... Brucia ancora, tra l'altro... E c'è lo scudo, a te pareva... Non è stupido, ho fatto avanti tra quelli che erano scudati... Arrivano gli altri nemici tra poco... Porca miseria... Ma quello sta bruciando almeno... Quello sì, l'altro dietro o no? Ah, Julia da dietro... Prepara una bella sorpresa... Non ha ignorato lo scudo, però dovrebbe dovuto, no? Oh, lui ha un... Oh, lui ha un... Molto buono... Così che almeno quelli dovrebbero essere... Serenamente targettabili... Non sono così tanto sereno, ma... Eh, lo andrò almeno qua dietro... Chi che rimane è lui, che però... Eh... Non è che molte possibilità... Tu hai... No, non hai neanche delle aculine, tu... Ha cercato di scappare quello sciocco... Ok, allora... Quello è senza scudo... Cavolo, ho tutto sto glancing? Grazie di casino... Ah, vai qua... Teoricamente non dovresti essere... Ma gli togli solo lo scudo? Meglio che niente... Meglio che niente... Meglio che Giulia, forse... Ah, lui è scudato... Per cui teoricamente non dovrebbe avere paura... Infatti... Chi è rimasto? È rimasto lui... Buono... Sai che rimane da bruciare più che altro? Quello è bruciato... No, quello non sta mica bruciando... C'è ancora qualcuno vicino a sto bracciario del manga? Sì... Oh, sta diventando lungo sto video, ma... Non pensavo fossero da fare fuori tutti e tutti... Penso che 8 fossero già quelli fatti invece no... Avrei dovuto contare, tipo... Ce lo rischiamo così tanto? No, aspetta... Vediamo prima com'è la situa qua... Tipo lo secchi? Bravissima... No, si deve allontanare... Vai con questo... Benissimo... Allora tizio possiamo anche mandarcelo laggiù... E lo so... Dove è l'altro con la torcia qua? E' lui? Da qua riesci? Speriamo di si... Vai! Ok... Ok... Allora tu... Fai... Kill on ground... Vai su questo... Poi vai qua... L'altro non brucia più se non l'altro... Tu vieni qua... Dove sta esserci qualsiasi cosa... Ah... Quella è bruciata... Ok... Per cui dobbiamo solo aspettare... Che bruci quella cassa là sotto... Ah... Lui lo farei retrocedere più possibile... Tipo vicino a... Questo... Che forse ha delle bende... Speriamo magari... E' andato... Ha delle bende... Eh... Non ha anche senso sprecarle... Tanto è andato... Ok... Abbiamo comunque usato due giavellotti e tre torce... No bueno... Allora... Rebellious... Ah... Rebellious è quello in gamba... No... Facciamo un po' di... Raccolta... Eh... Oggetti... Ma in realtà posso farlo... Potrei farlo anche solo io... Senza farvi perdere il tempo... Vi saluto... Vi invito come al solito a lasciare un mi piace... Iscrivervi al canale se per caso non sia già fatto... Ci vediamo nel prossimo episodio... Ciao a tutti... E buona giornata... Ciao a tutti... Ciao a tutti...